Scene di ordinario caos in via Roma, dove ogni mattina dalle 8 alle 9 si scatena all'inferno quattro ruote. Circolazione paralizzata, code chilometriche di auto, claxon impazziti, asfalto colabroto e pedone a rischio, considerando che delle strisce bianche sono rimaste poche invisibili tracce. Disperati residenti che negli orari di punta rivelano di barricarsi in casa per tentare di evitare la morsa dello smog. Da un anno, vivibilità e viabilità a via Roma sono in tilt, avvertono i cittadini, che puntano l'indice soprattutto contro i semafori poco disciplinati. Segnalazioni di lanterne semaforiche poco regolamentate arrivano anche da Via L'Italia, Via Francesco Tedesco e altre zone della città. Stamane a via Roma, la voce di chi ogni mattina viene travolto dall'onda lunga del traffico. Bisogna trovare una soluzione all'incrocio dell'Inps, altrimenti qua la mattina ci vuole un'ora per superare questi 100 metri per arrivare alla Villa Comorale. È un problema quotidiano e mi immagino che qualcuno appunto si via carico di questo problema e si arrivi a un durato di soluzione. Una situazione che va avanti da quasi un paio d'anni, da quando io sto aperto è sempre così. Da cosa è aperto? Secondo me un po' dal semaforo, un po' dalla circolazione stradale, insomma, dalle strade che sono fatte un po' male. Ma in più dei casi, diciamo, fosse più da semaforo. Il semaforo perché? Eh ma perché, diciamo, la maggior parte delle volte, se ci fai caso, diciamo, il verde, diciamo, dura poco, due macchine, due macchine e mezza. Il rosso che dura una vita, si crea una fila, una confusione totale. E poi, diciamo, secondo me dovrebbero fare pure, diciamo, a senso unico la travessa qua dove sta, diciamo, il comprovore perché parecchie volte sono successe un po' di gidenti perché poi escono dalla travessa. E si buttano anche nelle travessi. Sì, ma ci stanno le macchine davanti che coprono la visuale. Giustamente, quello che esce dalla travessa si fa un po' più avanti, quello è la prima. E perché il semaforo non è regolarizzato bene, ogni tre macchine scatta il rosso, il verde dura pochissimo. Non so, già da un bel po' che comunque è questa situazione. Io quando stacco da lavoro mi trovo sempre, questa strada qua, 10 minuti buoni li passo nel traffico. Auto e pedoni al rischio. Sì, esatto, esatto, così è. Ma già da un bel po'. Da che so io, sarà un annetto, credo. È un annetto circa che fa, ci sta questo problema.